L'appuntamento per la benedizione Urbi e Torbi è come sempre a mezzogiorno in piazza San Pietro. La prima Pasqua di Papa Francesco si annuncia a carica di aspettative, mentre a decine di migliaia i pellegrini affollano ormai la capitale. Già ieri sera è stata di grande suggestione la celebrazione, conclusasi verso le 11, della veglia pasquale con il rito delle luci, la processione all'interno della basilica al buio del cero pasquale e la somministrazione dei sacramenti a quattro neofiti. Siamo spesso stanchi, delusi, tristi, sentiamo il peso dei nostri peccati, pensiamo di non farcela, non chiudiamoci in noi stessi, non perdiamo la fiducia, non rassegniamoci mai, non ci sono situazioni che Dio non possa cambiare, non c'è peccato che non possa perdonare se ci apriamo a Lui. Oggi invece, come da tradizione, il Pontefice celebrerà prima la messa alle 10 e poi dalla loggia centrale della basilica impartirà in tutte le lingue del mondo la benedizione, o almeno così si immagina, visto che finora Papa Francesco, a dispetto dei suoi predecessori, si è espresso rigorosamente in italiano, quasi a voler sottolineare il suo essere, prima di tutto, Vescovo di Roma. Ma la Pasqua, si sa, è la festa più importante per i cristiani, raggiungerli ovunque, ormai imprescindibile.